www.feyyaz.tv 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 stiamo lì però, stiamo lì sulla palla senti noi, senti noi oh dai, stiamo sulla palla va bene, va bene, va bene barco a sinistra, barco a sinistra spalle, spalle ali vuoi vedere Paolo? vai, 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 vai che sei solo vai dentro, vai dentro bravo, bravo, bravo bravo guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda un passo, un astraffolo Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 va bene. va bene. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. su. . a tutti. 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 su. 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 . su. 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 . , su. . 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